eccoci ragazzi buonasera a tutti voi buon pomeriggio anche benvenuti in questo nuovo video ricomincio a fare video dopo circa 6 giorni ma sinceramente ragazzi a me non fa non va assolutamente di fare video tutti i giorni facendo arriva questo forse arriva quello notizie di mercato fantomari di scambi che poi alla fine sono tutte castronerie che fanno uscire i giornali non ci sono in questo momento dopo la finale di champions specialmente in casa roma argomenti interessanti da analizzare a parte quello che è successo negli ultimi due giorni dove finalmente si è arrivati all'accordo per il nuovo allenatore allora il nuovo allenatore della roma sapete già tutti sarà paolo fonseca portoghese ex shaktar donets il quale aveva ancora un anno di contratto con la squadra ucraina la roma pagherà un indennizzo di 2 milioni di euro allo shaktar per liberarlo prima invece che i cinque che erano battuti per la clausa rescissoria all'allenatore andranno due milioni e mezzo di euro all'anno per tre anni o due anni e opzione per il terzo adesso non ricordo bene com'è la formula finalmente abbiamo l'allenatore speriamo che entro l'inizio della prossima settimana anche petraghi si possa liberare dal torino anche se effettivamente sta già lavorando per la roma cosa che io non concepisco vabbè sono altri discorsi quelli lì e quindi speriamo che della prossima settimana mercoledì o lunedì dovrebbe arrivare si firmerà a londra il contratto paolo fonseca si possano mettere finalmente al tavolino a programmare la nuova stagione e ritiro estivo la programmazione visto ci sarà il preliminare di europa league la preparazione lo staff tecnico gli acquisti ed eventuali cessioni e speriamo finalmente che possa partire questa stagione che soprattutto sia una stagione migliore di quella precedente anche se visto il ridimensionamento degli obiettivi senza la champions non vedo tutti questi grandi investimenti da parte della roma per cui io spero che vengano presi i giocatori funzionali al tecnico al suo modulo che il 4231 quindi un modulo che la roma adotta da anni che comunque ha dei giocatori per farlo anche il rosa in questo momento e che si possa comunque fare una stagione comunque di riscatto dall'anno scorso puntare sicuramente alla champions puntare andare più avanti possibile in coppa italia e in europa league almeno questo penso sia il minimo che questa società e questi calciatori possano fare nella nuova stagione paolo fonseca è un che ha vinto una coppa del portogallo con il porto e una supercoppa di portogallo con il braga ha vinto tre scudetti negli ultimi tre anni con lo shakta tre coppe di ucraina e una supercoppa di ucraina a esperienza internazionale perché comunque lo shakta è stabilmente in champions league da da qualche anno supera quasi sempre il turco il girone preliminare l'anno scorso è stato eliminato proprio dalla roma agli ottavi per cui ragazzi sicuramente non era la prima scelta questo è chiaro perché sappiamo tutti quello che sta succedendo all'interno della roma da quando è finito il campionato tutto quello che è successo durante l'anno con i mancati risultati sportivi con le sogni di francesco la fuga di monci la totale assenza di pallotta e compagnia bella per cui sappiamo com'è la situazione qui a roma e tanti allenatori hanno rifiutato la panchina della roma proprio perché non hanno ritenuto che la società sia in grado di gestire determinate tematiche e di raggiungere determinati obiettivi nell'immediato vedi conte vedi sarri vedi forse lo stesso murino che sicuramente sarà stato contattato gasperini che ha voluto rimanere l'atalanta gattuso che si è tirato fuori insomma ragazzi paolo fonseca è stato candeggiato da baldini e comunque erano rimasti soltanto lui o de zerbi per cui io devo scegliere fra paolo fonseca e de zerbi preferisco di carlunga paolo fonseca che è un alloratore che ha molta più esperienza anche a alti livelli bisogna ringraziare questo tecnico questa persona perché noi ricordiamo che lui guadagnava molto di più allo shaktar quindi si è dimesso dimezzato lo stipendio per venire a roma si è sganciato un anno prima dalla squadra con cui aveva un contratto rinuncia a fare la champions league perché lo shaktar avrebbe fatto la champions league e invece noi stiamo in europa league e ha accettato in tutto questo contesto così difficile in cui si trova adesso la società di venire a roma e di venire a allenare la roma per riscattare la roma nella nuova stagione non è da tutti avere il coraggio che ha dimostrato paolo fonseca certo è anche vero che lui probabilmente non conoscerà le tematiche approfondire dell'ambiente roma stampa giornali radio la pressione e tutto quanto perché sicuramente non conoscerà nei dettagli tutte queste cose comunque è un professionista quindi si sarà informato sull'attuale situazione della roma a livello societario a livello di risultati sportivi dell'ultima stagione a livello insomma di quello che è successo in tutta questa stagione per cui non penso sia uno sprovveduto che accetta un incarico così tanto per venire allenare una nuova squadra ma sicuramente avrà voglia di affrontare questa nuova avventura di far bene di rilanciare la roma e di portarla ai ai livelli che ci ha accortato distinto negli ultimi anni cioè comunque arrivare sempre secondi o terzi arrivati più largo costo lungo possibile più lontano possibile in centro e cercare di migliorare questa nostra tradizione un po fallimentare negli ultimi anni che abbiamo in coppa italia perché uscire con lo spezia uscire col torino in casa con lo spezia in casa perdere 7 a 1 una fiorentina che rischiava andare in serie b stanno insomma non mi pare un atteggiamento giusto nell'affrontare comunque un obiettivo che ti permette non solo di vincere un trofeo ma anche di andare direttamente in europa league in caso quindi questa è la situazione fonseca petraghi pallotta baldini e compagnia bella speriamo che dalla prossima settimana si comincia a lavorare in maniera serie per programmare la stagione in tutto e per tutto e che possiamo finalmente ricominciare ad amare questa squadra questi giocatori perché la maglia la amiamo sicuramente e speriamo di avere una stagione di riscatto fatemi sapere cosa ne pensate di paolo fonseca iscrivetevi al canale commentate ditemi la vostra sempre sempre forza roma ragazzi ci vediamo alla prossima